Un viaggio di mille miglia inizia con un solo passo. Non avere fretta, ma tieni sempre in mente la tua meta. Deve essere disposto a fare ciò che gli altri non vogliono fare, se vuoi avere ciò che gli altri non avranno. Lavora solo, non mollare di un centimetro. Non importa quante volte cadrai, perché cadrai. È importante come ti alzerai, serve coraggio per ricominciare da capo. Ogni fallimento che sperimenterai è un centimetro in più verso la tua vittoria. Se non fallisci, non ci stai provando. Impara a credere in te stesso, solo se credi di potercela fare, ce la farai. Insegui il tuo obiettivo, fa che diventi realtà. Se lo vuoi veramente, farai di tutto per raggiungerlo. Un campione è colui che continua a provare fino a quando non raggiunge e prende quello che vuole. La vittoria è imparare. La vittoria è il rispetto per l'avversario e per te stesso. La vittoria è un viaggio. E arrivando fino a qui... Hai già fatto il passo più importante. La vittoria è il rispetto per l'avversario e per l'avversario e per l'avversario è il rispetto per l'avversario. La vittoria è il rispetto per l'avversario e per l'avversario. La vittoria è il rispetto per l'avversario. Grazie.